investimenti, ma abbiamo bisogno della collaborazione, abbiamo bisogno che ci sia qualcun altro che ingrani la quarta o la quinta. Quindi non possiamo andare avanti con istituzioni che tirano il freno a mano sulla valorizzazione del parco. E poi vorremmo anche vedere il Gran Premio di Formula 1 qualcuno che premiasse, ma che per la Formula 1 qualcosa abbia fatto, non solo abbia commentato quello che sono riusciti a fare le altre istituzioni. Io penso che qui ci sia un grande lavoro da fare. Abbiamo parlato di temi di viabilità, ma io continuo a dire che questa è una delle zone più belle, più attrattive e più economicamente forti al mondo. Non c'è tantissimo da fare come pubblica amministrazione, c'è da lasciare lavorare i nostri imprenditori e insieme, gioco di squadra con le istituzioni, è possibile così anche favorire l'occupazione. E poi vedete che se si mette in moto l'economia e se si mette in moto l'occupazione tanti problemi vanno via via risolti.